Simestra Gold Cambio manuale o automatico Cruscotto Volante Sedile Pedaliera La piattaforma si muove su tre gradi di libertà per ricreare tutte le sensazioni legate all'accelerazione. Alla frenata All'inclinazione in curva Ai cambi di terreno Alle vibrazioni Si possono selezionare i mezzi più in uso nel trasporto di merci e persone. Gli scenari 3D raffigurano percorsi urbani Extraurbani Autostradali Di parcheggio E piste di prova Una rappresentazione realistica anche dal punto di vista degli elementi architettonici, con segnaletica stradale conforme a quella indicata dal codice della strada. Grazie alla disponibilità di un editor, l'istruttore può inserirsi nell'esercitazione e modificare ogni componente dello scenario e delle situazioni di traffico. Può modificare le condizioni di luce e le condizioni meteorologiche, con conseguente variazione di aderenza al fondo stradale. Può generare eventi straordinari in modo da osservare la reazione del conducente e le relative manovre di guida. Con la funzione di telemetria, l'istruttore tiene sotto controllo i principali parametri del veicolo, l'uso dei comandi, il funzionamento del motore, i consumi di carburante e le emissioni inquinanti. Simestra Gold è ideale nell'ambito dell'Eco & Safe. L'utilizzo del simulatore comporta benefici per il conducente, miglioramento delle prestazioni di guida, riduzione degli incidenti su strada, possibilità di vivere e gestire senza rischi situazioni critiche, benefici per l'azienda, valutazione psicoattitudinale dei guidatori, analisi comportamentale riferita alle situazioni di pericolo, riduzione dei costi derivanti da fermoveicoli, danni, premi assicurativi, riduzione dei consumi di carburante e benefici per l'ambiente, con la riduzione delle emissioni di anidride carbonica. Gli incidenti su strada rappresentano una perdita umana ed economica insostenibile. Ottimizzazione dei consumi perché la voce carburante incide in modo gravoso nei bilanci di un'azienda. Il movimento delle idee per costruire un futuro Ego & Safe.